Sto scrivendo alcuni pensieri ispirata dalle note del sassofono, in maniera così molto libera, spontanea. In fondo scrivere e raccontare delle storie è un gesto così naturale, ci viene facile quando siamo tra gli amici o magari a raccontare la storia al bambino che sta per addormentarsi. Si parla molto di storytelling, ma che cos'è questo storytelling? Immaginate una storia raccontata proprio in questo giardinetto, immaginate una storia di bambini. Allora può raccontare una mamma, una tata che ha il suo primo giorno di lavoro, un bambino stesso, un bambino magari di due anni. Ecco che questo scivolo diventa una conquista incredibile per lui la prima volta, magari arrivare in cima, poi la paura di scendere, un drammone quasi, o magari la bambina che ti ha rubato il turno sull'alta lena, o magari lo scivolo stesso che racconta. Ora pensiamo al mondo delle imprese, il mondo delle imprese complesso con tutte le sfide del mercato attuale. Immaginiamo di raccontare la storia di un'azienda, possiamo farlo dal punto di vista delle persone che vi lavorano, che creano, che inventano, che lavorano in officina. Possiamo raccontare dal punto di vista del management, da chi detiene poi le quote economiche dell'azienda e vuole monitorare i risultati. Possiamo perfino farlo dal punto di vista di un prodotto dell'azienda, magari un prodotto anche complicato, come una macchina utensile per esempio, oppure un prodotto finanziario o bancario. Questo è importantissimo perché se noi abbiamo il punto di vista giusto e una narrazione semplice, spontanea, affidata alle persone, noi otteniamo veramente l'obiettivo dell'efficacia e possiamo anche creare nuovi paradigmi attraverso il racconto. Il 21 e il 29 novembre avremo la nostra prima esperienza sullo storytelling di impresa in Skillab. È un'occasione veramente formidabile perché potrete sperimentare questa nuova tecnica con, sotto la mia guida, io sono una scrittrice e sono anche un'esperta di imprese da tantissimi anni. Questo è un elemento in più che ci potrà aiutare anche a definire strategie del comitente, i linguaggi, le modalità narrative. Vi aspetto e ci divertiremo moltissimo.